ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco mistral neo farmed gentili spa ultimo aggiornamento 4 novembre 2021 cosa mistral confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere mistral durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinettiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci esteri cos'è mistral mistral è un farmaco a base del principio attivo dermatan solfato sale sodico appartenente alla categoria degli anticoagulanti diretti e nello specifico altri antitrombotici è commercializzato in italia dall'azienda neo farmed gentili spa mistral può essere prescritto con ricetta osp medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura adesso assimilabile confezioni mistrali niet 10 fiale 100 mg 2 ml mistrali niet 4 fiale 300 mg 3 ml informazioni commerciali sulla prescrizione titolare neo farmed gentili spa ricetta osp medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura adesso assimilabile classe h principio attivo dermatan solfato sale sodico gruppo terapeutico anticoagulanti diretti forma farmaceutica soluzione uso interno indicazioni prevenzione della trombosi venosa profonda posologia la posologia varia in funzione del grado di rischio tromboembolico in medicina pazienti allettati pazienti con tromboflebite acuta delle vene superficiali o varicoflebite 100 o 200 mg barra di e per via intramuscolare in un'unica somministrazione quotidiana o a risoluzione dei sintomi flebitici in chirurgia addominale toracica ginecologica e durologica secondo il grado di rischio individuale da 100 a 300 mg barra di e per via intramuscolare in un'unica somministrazione quotidiana il trattamento va iniziato due giorni prima dell'intervento evapro tratto fino a completa mobilizzazione del paziente nei pazienti operati per neoplasia il trattamento va pure iniziato due giorni prima dell'intervento la dose intramuscolare è di 600 mg il primo giorno di trattamento 300 mg ogni 12 ore e successivamente di 300 mg barra di e in un'unica iniezione quotidiana fino a completa mobilizzazione il trattamento deve comunque coprire almeno la prima settimana post operatoria nella chirurgia ortopedica maggiore p esempio chirurgia dell'anca secondo il grado di rischio individuale 300 mg barra di e in un'unica somministrazione quotidiana o 600 mg barra di e 300 mg ogni 12 ore per via intramuscolare negli interventi elettivi il trattamento va iniziato due giorni prima dell'intervento e proseguito fino a completa mobilizzazione nella chirurgia traumatica frattura d'anca il trattamento va iniziato al più presto possibile dopo la diagnosi di frattura e va proseguito nell'attesa dell'intervento e dopo di esso sino alla completa mobilizzazione del paziente il trattamento deve comunque coprire almeno la prima settimana post operatoria controindicazioni alterazioni congenite o acquisite della coagulazione che espongano a rischio emorragico gravi emorragie in atto recenti ipertensione arteriosa non controllata generalmente controindicato nell'insufficienza renale vi 44 ipersensibilità individuale accertata verso il dermatansolfato generalmente controindicato durante la gravidanza e allattamento di 46 e nell'età pediatrica di 44 avvertenze speciali e precauzioni di impiego differenza di quanto accade con le parina non sono necessari controlli di laboratorio della funzione coagulativa in corso di trattamento con dermatansolfato è opportuno specie in caso di trattamento vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione la somministrazione contemporanea di farmaci nibenti l'aggregazione piastrinica compresi l'acido acetilsalicilico e gli antiflugistici non steroidei comporta un potenziale aumento del rischio emorragico l'uso di tali farmaci va quindi limitato vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it assumere mistral durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere mistral durante la gravidanza e l'allattamento il dermatansolfato non ha effetti teratogeni o embriotossici nell'animale da esperimento l'uso di mistral in gravidanza è comunque sconsigliato data l'assenza di informazioni cliniche a tale riguardo non vi vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non sono noti nessun effetto è da attendersi in base alle caratteristiche farmacologiche del prodotto effetti indesiderati mistral non causa un aumento statisticamente significativo del rischio emorragico rispetto a quello di pazienti non trattati ciò non esclude che complicanze emorragiche per i operatorie possano occasionalmente verificarsi e chimosi o piccoli vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it sovradosaggio illimitato volume iniettabile per via intramuscolare rende improbabile l'eventualità di un sovradosaggio di dermatansolfato se ciò dovesse verificarsi il trattamento va interrotto non vi è esperienza clinica di neutralizzazione del dermatansolfato mediante brutamina proprietà farmacodinamiche il dermatansolfato è un glicosaminoglicano di origine naturale esso potenzia l'azione di un inibitore fisiologico selettivo della trombina il cofattore parinico ii mentre è privo di effetto sull'antitrombina ii ii proprietà farmacocinetiche gli studi di farmacocinetica nell'uomo hanno evidenziato le caratteristiche seguenti volume di distribuzione simile al volume plasmatico rapida eliminazione dopo somministrazione endovinosa in vita di 60 minuti a causa delle dati preclinici di sicurezza la dl 50 per via endovinosa è superiore a 1800 mg barra chilogrammi nel ratto ea 500 mg barra chilogrammi nel cane la somministrazione di dosi endovinose ripetute fino a 62 5 mg barra chilogrammi barra vie per 13 elenco degli eccipienti sodio cloruro acqua per preparazioni iniettabili fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato ciao 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 ciao